In Lombardia arriva la prima sconfitta stagione dei Rimini contro la superquotata Ferrar Prisalò, orfano del suo giocatore di maggior prestigio, l'ex Brescia Caracciolo. In avanti viene schierato a suo posto l'ex Rimini Mattia Marchi, che si riserva di non insultare quando su finire di più tempo bucherà la retroguardia ospite. Il Rimini deve rinunciare a Scott Arlotti, mentre in avanti al primo minuto vengono mandati in campo Bonaventura e Candido. Proprio da lui parte la più occasione vera del match. Da un calcio piazzato l'ex Monza spedisce in zona di Lucia, il quale uscendo a vuoto favorisce il colpo di testa di Volpe che si spegne alto. Tre minuti più tardi gli ospiti potrebbero passare, Candido ancora una volta protagonista, viene toccato dentro l'area di rigore da Pisse. Il refreggio mostra il tocco e l'arbitro ben appostato sancisce il rigore. Degli 11 metri la solita finta di Bonaventura. Non inganna i riflessi di Lucia che distinto ribatte la conclusione centrale, nuovamente sui piedi dell'attaccante che manda alto. La Ferrarpe si vede a 19-19 quando Parodi crossa per la testa di Marchi, che non incide come vorrebbe. Tre minuti dopo, alla mezz'ora, il direttore di gara questa volta decreta un penalty in favore del Ferrarpe Cialò. Troppo evidente il fallo di mano di Ferrani. Dal discritto Scotti risponde presente, neutralizzando Guerra, che nel tentativo di gettare il pallone in fondo alla rete, tra l'altro in acrobazia, commette fallo. Vantaggio rimandato di soli 5 minuti. Quando da una rimessa laterale, Venturini viene scavalcato dal pallone. Ferretti serve Marchi, calza di prima intenzione, Scotti le spinge, ma sull'acrobazia dell'attaccante Romagnolo, nulla può. 1-0 è gesto di foreplay che evita l'insultanza contro la squadra della sua città e contro la squadra che non lanciò nel calcio che conta. Nella ripresa di Rimini, come in altre occasioni, cerca di rimediare al danno. Passato per la seconda volta in stagione sotto, Guilherme si ricorda di essere un ottimo crossatore, ma buona avventura nella conclusione si dimentica di essere bomber di razza. La Ferrarpe si fa vedere con un'iniziativa di Ferretti, con traversione finale al centro, sventato dalla retroguardia ospite. A 62esimo De Lucia smanaccia il traversone di Candido, ma non recca sicurezza alla difesa. E non a caso, a 68esimo, da una punizione di Candido, De Lucia la combina grossa, perdendo il pallone. La difesa è lontana in pericolo, rimediando come meglio non si potrebbe. Nel finale, Cicarevic in grande spolvero, dopo una serie di finte, minuto 83, arriva a concludere, ma calcia malamente. Mentre l'extra time è di copyright del Ferrar Pichalò, che prima spreca con la combinazione parò di Marchi, con Tio di quest'ultimo alto, poi Pesce si ricorda di essere stato giocatore di Serie A, tra Ascola e Catania, e insacca sul suggerimento di Raffaello, il pallone della fine dei giochi. 2-0 e prima sconfitta in stagione per il Rimini, mentre la Ferrarpi torna a sorridere, ottenendo il terzo successo di fila, stazionandosi al terzo posto in classifica. L'ultima occasione per il Rimini al minuto 93, questo gran tiro dalla distanza viene respinto a De Lucia. Il migliore dei padoni di casa è Mattia Marchi, suo e gode momentaneo 1-0 in acrobazia, tra l'altro rimane bello il gesto tecnico, ha tanto bello il segno di rispetto nei confronti dei suoi ex tifosi, anche se il calcio è gioia e l'esultanza è cosa naturale e giusta. Per il Rimini il migliore candido dal suo piede nascono tutte le occasioni pericolose, compreso il rigore guadagnato. Dietro la lavagna, Buonaventura, serata storta, penalti sbagliato e un'occasione divorata, ma il calcio è anche questo, gioie e dolori per un bomber che saprà sicuramente riscattarsi. Il peggiore di Ferrarpi Salò rimane ancora una volta l'attaccante Guerra, non al meglio della condizione si vede, sbaglia il rigore del possibile 1-0.